Riccardo Velotti, GSC Villongo, vince il teore oggi qui sul traguardo di Sportatica. Una bella vittoria, no? Sì, ricordate al merito del mio compagno di squadra, c'è anche lì, e devo dire che stai nemmeno. Te lo aspettavi oggi di vincere? No, non lo so, non lo so, raccontaci un po' il finale, questa volata, com'è stata? Sì, è stata molto bella perché il mio compagno di squadra, ho tirato un po' il prossimo, e poi ho fatto il freddo in realtà, è velocissimo. Per te comunque è un inizio di stagione positivo, ti abbiamo visto piazzato anche nelle scorse domeniche, quindi sta andando bene la tua stagione. Quali sono i tuoi obiettivi? Grazie a te, a te, a te.